Il cedro è un frutto che, oltre ad avere un forte legame culturale con diversi credi religiosi, come quello ebraico e buddista, si presta ad avere tantissimi utilizzi anche in ambito culinario. Tra le ultime sperimentazioni troviamo il particolare abbinamento con il caffè. L'idea di associare il cedro diamante, prodotto identificativo della riviera dei cedri, al caffè, è nata dalla mente di Massimiliano Deida, fondatore e proprietario del marchio caffè Marodda. L'evento dedicato a queste nuove sperimentazioni è stato svolto nella scuola di caffetteria a Santa Maria del Cedro. Erano presenti all'iniziativa il professore Franco Galiano, presidente dell'Accademia Internazionale del Cedro, e i giornalisti Luigi Salsini e Massimo Nocito. L'intento principale è quello di valorizzare il territorio, creando un legame tra questi due sapori, abbinandoli insieme per creare delle bevande uniche, originali e facilmente riproducibili, con gli ingredienti presenti in un bar, così come spiega Davide Spinelli, trainer e vincitore del campionato italiano Ario Press, che se ne sta occupando creando delle bevande uniche dai sapori coinvolgenti. Lo sposalizio è nato spontaneo, in quanto i profumi del caffè si sposano perfettamente con il cedro. Questo si può unire in un aperitivo, si può unire in un dessert, si può unire anche in un qualsiasi piatto, in quanto il caffè noi lo pensiamo sempre solo legato a una tazzina, a un espresso, ma in realtà il caffè può essere un ingrediente di qualsiasi cosa, e non solo del classico tiramisù o del caffè shakerato che possiamo trovare ovunque, insomma il classico espresso e ghiaccio, ma può essere anche utilizzato, che so, in un alimento come la carne, nel barbecue, lo potrei macinare e mettercelo sopra, e perché non farlo assieme a delle scorse di un agrume, lime, e quindi perché non il cedro. Da anni l'Accademia Internazionale del Cedro porta iniziative volte alla tutela del frutto calabrese. Sono due prodotti che praticamente svegliono in noi delle sensazioni primordiali, va bene, non banali, raffinate e nello stesso tempo soprattutto cementono amicizia, solidarietà e volontà di conoscersi.